Ermal Meta, sul red carpet del Locarno Film Festival, parla del legame tra la sua musica e il cinema. Il cinema è una parte, credo, fondamentale della creatività musicale, perché abbiamo tutti amato grandi colonne sonore che hanno reso ancora più grandi i film di cui hanno fatto parte e contemporaneamente sono stati resi immortali proprio dai film che li hanno avuti al proprio interno. Credo che ci sia un legame molto stretto tra la musica e il cinema. Il cantautore sta anche pensando a fare un film da regista, la storia già c'è. Una cosa che mi piacerebbe molto fare, ci sto già pensando da un po' a dire la verità, perché c'è una storia che vorrei proporre, però ci vuole ancora un po' di tempo perché è qualcosa di particolare.